Missione compiuta a Picerno, vittoria larga, 3-0 e terzo posto confermato, Delfino agli ottavi play-off. Partita vincente, una delle più belle dell'intera stagione, ben giocata da entrambe, occasioni da una parte e dall'altra. Fare la differenza all'attacco Biancazzurro, spietato e letale, Merola protagonista al pari di Lescano, vero e proprio fattore. Davvero scatenato l'attaccante Italo-Argentino, 19 gol e quarta doppietta in nove gare della gestione Zeman. Una sentenza, nelle tre reti il marchio di Merola, il rigore procurato, onestamente generoso, il meraviglioso assist per il raddoppio di Lescano, il gol del 3-0. Questa volta Biancazzurri belli ma soprattutto concreti, ottimo approccio del Delfino, ritmo, intensità, pressione, recupero alto del pallone con i tempi giusti. Poi è venuto fuori l'undici di Longo che ha creato insidie sulle corsie laterali, soprattutto dalla parte di Ceccarelli ma senza concretizzare. In avvio di ripresa nel momento di maggiore spinta del Picerno a un passo dal pareggio, rischio autogol di Craia, pallone sul palo. La capacità di restare lucidi, di non abbassarsi nel contempo di assestare l'1-2 che ha frustrato in modo inesorabile le velletà dei Lucani. Con Zeman prima volta senza subire gol, altro dato da sottolineare anche se i pericoli non sono mancati. Da rivedere le marcature sui calci da fermo, vittoria importante, la diciannovesima in campionato, nona in trasferta. Il Pescara chiude così al terzo posto. In sintesi i Biancazzurri saltano le prime due gare dei play-off di Girone e accedono direttamente alla fase nazionale. Di fatto agli ottavi di finale in programma domenica 7 maggio, gara di andata e giovedì 11, match di ritorno. Il Pescara giocherà in casa con due risultati su tre a disposizione perché testa di serie. Inizio dei play-off che tuttavia potrebbe slittare per il caso Siena. Giusto e corretto da parte di Zeman smorzare gli entusiasmi. C'è ancora da migliorare ma la mano del boemo è piuttosto evidente.